Causio, vedete che Causio ha retrato il raggio della sua azione nel tentativo di dare maggior respiro all'azione offensiva della Juventus, avanza ora Cucureddo, ecco il suo passaggio in direzione di Scirea il suo traversone, colpo di testa ed il gol, il gol! Tardelli, buono il passaggio su Cucureddo, possibilità del contropiede per la Juventus Cucureddo un buon tiratore, Benetti chiede triangolo, Cucureddo al centro, anticipato per un soffio Bettega, poi Benetti, Causio fra due avversari, mischia paurosa ecco il fischio dell'arbitro, batte invece in profondità, Scirea e prodezza incredibile da parte del portiere che salva letteralmente il risultato